buongiorno oggi prevedo una giornata bagnata comunque sta sempre zitta e muta ecco tutto pronto tutto pronto per affrontare le rapide una delle esperienze più belle che io abbia mai fatto il rafting il fiume sta pieno bellissimo sono stra divertito bello bello lo consiglio a tutti bello un po gelato bello il rafting fa consumare tante energie e quindi uno strudelino di assestamento prima di pranzo bisogna farlo la montagna mette fame lui o non è lui certo che è lui guardate l'ho schiso mamma mia come schisa sembra una vicella spaziale sta caffettino cosa pazzesca che c'è in questo hotel cioè che va proprio over the top le ciabatte col pelo mamma mia sento proprio maschione così nonno faustino con le ciabatte col pelo ma pazzisce poi proprio pelo ma proprio pelo mamma mia che spettacolo piede caldissimo top anche le vostre ragazze ritardano sempre nocciolina sei pronta dopo esattamente un'ora eccola che ancora cerca eh ma chi chi che è dio buono è un'ora che te sto aspettando io veramente forza a scattare l'ho dovuta minacciare è così tre gocce in croce i capelli si affossano tutti 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 cioè non è che uno ne rimane tutti affossati tre gocce in croce tre gocce guardate che mi tocca vedere boh un cappello sta pieno cioè tac tra lo giri non prendi l'acqua il capello respira non si bagna puoi piastrarti quanto vuoi cioè il cappello sta pieno il capello è più sereno c'è qua il grande alfredo che ci ha portato il quad grande alfred numero uno vai sgomma tira il freno a mano mamma mia il freno grande se c'è poi io mi ribalto bello lago dei caprioli che spettacolo e qui abbiamo un incrocio tra uno stambec e un capriolo proviamo subito se va scivoli non so dove guardare se la pasta il lago no anche te amore si 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 amore si 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 anche te guarda proprio lì è affogato affogato ci sono le meduse qua? no le meduse non ce so eh sull'acqua che sta le meduse? no le bisce d'acqua ah le bisce Sara hai fatto la cacca? quante volte te le volevo dire che devi andare al bagno? cioè io veramente io non lo so ma scusa adesso chi la raccoglie? ma che hai mangiato? oh non mi è partito il video c'era quel pescatore lì gli ho chiesto se c'era il tonno mi ha detto no ma l'acqua qua è dolce non è salata io ho detto è perché non l'avevo bevuta così infarile lo so hanno pigiato play chi è che sentiva freddo che ha messo il vestito da coccodrillo? eh? Sara trovate una ragazza si mette freddo la coccodrillo panna in giro poi ne riparlamo la coccodrilla la grappina guardate che bello ragazzi altro che la sabbia si attacca tutta addosso in quel modo le file dappertutto e quindi c'è nessuno si respira ogni tanto c'è qualche pozza le cacca, le mucche però si sta bene la montagna rivalutatissima rivalutatissima una caverna la faccio per nonna maria guarda che ho trovato nonna maria so che tu me vedi io te penso guarda eh? Cristo della montagna l'ha detto? qua ma sei dimesso no 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 vabbè no così no sembra un presepe famo il presepino ora si ricomincia la stagione con il presepino eh dove è la situa? sa? vabbè vabbè c'è sempre arruvistata sembra una marmola se non c'è credo che sono arrivato qui siamo a castello siamo a castello incredibile c'è l'epis c'è l'epis che mettiamo la ferma me l'è no non c'è l'epis non c'è l'epis c'è un coccodrillo alpino dolomitico mamma mia manco i matti manco i matti chi è? chi è? chi è? chi è? chi è? chi è? vedi apri la porta chi è? vabbè io vado in sotto ciao bravo chi è? chi è? vabbè sono maleducazione la maleducazione però no eh chi è? chi è? eh apri il sfondo eh sfondi ma che sfondi? vai uno due tre che forza che forza fa 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 fai oh Filibe oh ma non manco lì ma manco lì ti guarda oh Filibe taglia che è il gatto oh Filipe fagli baciare l'anello da peccatore signor Faustino sono la bambina di Filipe che ti voglio salutare io non capisco niente pronta? si? sono la figlia di Ottavio volevo salutare Faustino la figlia di Ottavio chi è Ottavio? è il macellaio mi ha dato il numero? è il macellaglietto quello vicino da voi io non conosco è ora di cena posso salutare nonno Faustino? per favore si ti voglio salutare la figlia di Ottavio è la figlia di Ottavio pronto ciao nonno Faustino oh ciao ciao come stai? molto bello sai che io ti guardo sempre? si lo sai perché? perché sei uno stronzo io sono stronzo? si ti hai detto? che sei uno stronzo? il numero suono non c'è senti ti voglio pronto oh no oh ma... ero io prima eh? ero io ma tu ti sgarbi le m***e e ho trovato un tunnel del monte Nel Germinio sono passato per di là e dopo sono risbucato di qua torno domani dopo pranzo parto alle 10 va bene, va bene ma hai sentito? io sto a mangiare ma vuoi far mangiare? che stai a mangiare? sto a mangiare la pettina? con che? non è vero la pettina sto a mangiare che stai a mangiare? che è? che è la bistecca e la talsiccia ah ah è uguale ah oh mica non puoi come te che stai a mangiare il capriolo ah questo cazzo no oh dove andai io? oh eh dove andai io? a Panculo oh dove? ciao ciao dove? un'unica a frillare stasera proprio mi sono vestito super super bene perchè è l'ultima sera faaa la maglia un solo slogan speri proprio lì mi sono vestito super bene ho messo la maglia faaa solo per andare a scopà no? va bene? non mi sarebbe piaciuto tanto anzi dato che confido sempre in voi scrivete in DM fa la maglia che te fa boh è un slogan voi che ne so non lo so seguite voi fate voi siamo a cena con il grande Alfredo numero uno numero uno abbiamo mangiato medaglione? abbiamo mangiato un buon medaglione di vitello e soprattutto un buon buon lagre medaglione di vitello perchè sono le olimpiadi assolutamente è un medaglione di vitello buonissimo numero uno Alfredo nocciolina che fa nocciolina che si chiama nocciolina? mamma mia come peggio la stufa del minonno ora che lavora ma che c'è il pellet di lì dentro? Alfredo c'è il pellet come diciamo sempre gli ingredienti speciali questa stagione è la cannetta la cannetta